L'autostrada Pedemontana Lombarda è l'unica in Italia senza caselli. Grazie al sistema di pagamento FreeFlow, dalle targhe si risale subito al pedaggio da pagare, senza bisogno di fermarsi né rallentare. Pagare il pedaggio è semplice e puoi farlo anche online. Se temi di dimenticarti e vuoi azzerare il rischio di sanzioni e maggiori costi, attiva il tuo conto targa. Associ alla targa del tuo veicolo una carta di credito o un conto corrente bancario e i pedaggi li paghi in automatico. Conto targa lo attivi gratis. Clicca su questa sezione del sito pedemontana.com e inserisci i dati richiesti oppure fermati a un punto assistenza, dove è sempre possibile pagare anche i singoli pedaggi. Ma con conto targa i tuoi pedaggi non ci pensi più. Nella tua area riservata troverai l'elenco dei transiti effettuati e il costo dei pedaggi. Conto targa è il modo più comodo per pagare, ma non l'unico. Puoi anche usare il telepass e se viaggi occasionalmente clicca qui e scopri come pagare online. O scarica l'app gratuita APL Free Flow dal tuo smartphone o tablet Android o Apple. Oppure chiama il call center allo 02 39 460 460. Autostrada Pedemontana Lombarda. Viaggiare è più facile.